Pietro, sono ceddo eh! 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 Dai 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 giocalo subito! Dai vai ora ora! Bravo! Dai dai! Bravo dai ceddo dai! Bravi! Fabio sali! Vai ora ora ora! Vai Robi! Vai Robi! Vai Robi! Vai Robi! Vai Robi! Pietro! Bravo! Bravo Pietro! Bravo Pietro! No stai! Bravo Pitbull! Ehi! Vieni! Vieni, vieni la sella! Ancora, 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 ancora! Bella! Quattro a un! Quattro! Tre! è l'Eurogoal di Pietro il primo tui gol belli e te li di mente tu ti ricordi quelli facili è stato veloce è stato lampo oggi li prendi a crotone tre gol prendi a crotone è forte o è forte a martello ma a che ora inizia? 10 minuti segna martello dai Lorenzo dai Lorenzo dai che presa dai che presa dai gol vai prendiamola dai vai 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 bravo Pietro aiutati dai bravi così dai chiudi 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 vai Pietro che è tuo è tuo Pietro è tuo Pietro bravissimo Pietro bravo Pietro bravo ha già segnato il crotone? ma che cazzo ha segnato? ma che ne sono? ma che ne sono? ma che ne sono? bravo Omar Grazie a tutti